No! Eeeeh Bidibidu Aspetta, lo sai? Eh Voglio andare a vedere adesso Lo so Allora Aspetta Giochiamo a Bruce Austin mentre si fa l'aggiornamento Gioca tu Eh infatti fermi la volevo metterla io avvicino al tv facciamo una partita a testa ok ragazzi vi faccio vedere quanto sono potente però adesso li inviterò perché noi siamo vinciti a molto 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 dalle sino ecco però ok ragazzi siamo pronti ho fatto tutto ripetami oh è scaduto no è passiva 25 otte aspetta 20 ragazzi adesso vi faccio vedere il suo profilo c'è guardate che bomba ragazzi a 8852 coppe ragazzi a leon spero a però non vi faccio lo spoiler non vi faccio lo spoiler non vi faccio lo spoiler guardate 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 mi fa impressione corvo ragazzi corro è l'ultimo spai spai ragazzi lui è proprio è un culo incredibile ma è vero ragazzi ma io ho kelly ragazzi io ho anche frank ragazzi 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 non ho visto cazzo porca vacca no devo mettere un solo in spazio porca vacca ciao